ciao benvenuta la lezione pilates per bikini con il cerchietto ok mettiamoci a terra sul nostro tappetino e iniziamo insieme giù teniamo in area molto molto vicino a noi cerchietto prepariamo la schiena appoggiandoci sui nostri tre punti di supporto nella posizione supina osso sacro centro schiena testa in prossimità della nuca dell'attaccatura dei capelli e crea l'auto allungamento nella colonna sollevami le spalle verso le orecchie tira su bene e buttando fuori l'aria allunga le braccia verso il basso questo per da una parte riscaldare le articolazioni delle spalle dall'altra anche per sentire la posizione di esercizio delle spalle delle scapole quando butti fuori l'aria allunghi verso il basso come per toccare i talloni senti le scapole inserirsi bene nella schiena e compattarsi bene qui sotto a livello del cavo ascellare inspiro su e fuori l'aria allungo ancora molto bene ora rimaniamo e quella che defini mi piace definire posizione di esercizio perché non è che tutto il giorno poi possiamo rimanere in questa posizione ma sento bene le spalle abbassate le le braccia sono molto vicini al corpo i palmi delle mani premono verso il basso appena appena quel tanto che mi basta per sentire la parte muscolare posteriore delle spalle lavorare se dovesse essere eccessiva questa pressione ci si chiude nelle spalle così quindi modula la pressione in modo tale che sia proficua e benefica anche per la postura perché devi proprio sentire le spalle aprirsi lo sterno salire verso l'alto senza perdere la posizione neutra della colonna quindi continua nella tua testa a rimanere innanzitutto nel corpo e a passare da tutti questi dettagli riscaldiamoci ora nei motori profondi della powerhouse e del respiro e poi prendiamo il cerchio quindi inspira espandi la gabbia in tutte le direzioni soprattutto di lato e dietro mantieni il torace aperto e svuota i polmoni mantenendo aperto il torace senti che già questa indicazione ti costringe ad una attivazione che procura un approfondimento dell'addome ma senza perdere la posizione neutra ancora allungati mantieni neutro le braccia molto bene adesso attiviamoci con più decisione e intenzionalità proprio nella parte muscolare della powerhouse che parte dal bacino la parte per il perineo e del girovita è proprio l'area del ventre dal pube all'ombelico inspira torace aperto pavimento pelvico approfondimento dell'addome risucchio in su del pavimento pelvico il girovita si stringe immagine due cilindri un cilindro grande che rappresenta il nostro torace sempre più grande e un cilindro invece semi rigido che va a stringere sempre di più attorno al tratto lombare usa bene l'immaginazione perché ti aiuta a far scattare nel corpo la l'esercizio corretto l'esecuzione corretta molto bene ora andiamo a prendere il cerchietto lo sistemiamo inizialmente fra le ginocchia lasciando la distanza fra i piedi leggermente inferiore rispetto alla distanza fra le ginocchia inspira attivati nel pavimento pelvico nella powerhouse quando senti bene stabile la tua powerhouse senti che andare a stringere il cerchietto diventa più forte ed efficace stabilizza bene il centro e arriva a stritolare il cerchio e piano apro abituati ad aprire piano il cerchietto anche nei bounce offri sempre un po' di resistenza esercizio sia la chiusura sia l'apertura con resistenza ancora uno fuori 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 rimani stacco da terra le braccia di pochi centimetri ed eseguo il movimento di andred quando c'è la fase di espirazione il cerchietto deve essere chiuso con più decisione mettendo insieme tutto powerhouse respiro modalità di respiro ok e soprattutto ricordati pavimento pelvico devi pensare al pavimento pelvico come proprio la tua base inferiore del bacino e per avere più enfasi nel sentire sia il pavimento pelvico più efficace anche nei glutei devi pensare di avvicinare in questo esercizio in particolare soprattutto gli ischi come se volessi avvicinare le ossa sulle quali noi ci sediamo siamo pronti per andred con chiusura del cerchietto in fase di espirazione braccia parto già stringendolo moderatamente inspira uno due tre quattro cinque fuori due tre quattro cinque inspira due tre quattro cinque fuori due tre quattro cinque inspira due tre quattro cinque fuori, 2, 3, 4, 5, inspira, 2, 3, 4, 5, fuori, 2, 3, 4, 5, inspira, 2, 3, 4, 5, fuori, 2, 3, 4, 5, stop. Sposta il cerchietto all'esterno delle ginocchia, braccia per il momento a terra, posizione neutra, voilà, andiamo ad aprire il cerchio inspirando. Ora quello che ti chiedo è di aprire la gabbia toracica quando respiri e aprire il cerchietto sempre quando inspiri, vanno insieme, pensa proprio alle linee di espansione, di apertura del cerchio e della gabbia, cerca di mantenere entrambi, adesso attivati nella powerhouse e quindi senti l'opposizione delle forze che vanno verso il centro, mentre con le ossa e con il cerchio cerco di rimanere in apertura. E ancora, inspirone, apro il cerchio, svuoto i polmoni, lascio aperto il cerchio, aperto la gabbia, fuori l'aria, pavimento pelvico, apro il fondimento, senti proprio la riduzione profonda degli spazi interni. Ancora uno, molto bene, eseguiamo la seconda metà di Andred con la spinta in fuori, qui diamo enfasi alla fase di inspiro, ok? Quando buttiamo fuori l'aria cerchiamo in realtà di resistere con il cerchietto aperto. Siamo pronti, seconda metà di Andred insieme, fissa la posizione neutra e non la perdere, braccia lunghe, petto aperto, vai! Ancora due. E voilà, molto bene. Premo a terra le mani, porto e agevolo la presa del cerchietto con le mani, lascio la gamba destra a tavolino, il piede sinistro a terra e posiziono il cerchietto sull'interno del ginocchio della gamba. destra, ok? Quindi vado a prendere il cerchio con la mano opposta, braccio sinistro lungo il fianco, bene la posizione allora è asimmetrica ma la tua box resta stampata in maniera perfetta simmetrica. inspiri. Quando butti fuori l'aria ti attivi bene nella powerhouse, ok? E fuori, fuori, fuori cerca di stringere il cerchietto sia con la mano sia con la gamba e piano apro, respiro. Ancora, fuori l'aria due, pavimento pelvico, approfondimento, box, allungo della colonna. Ancora. Molto bene. Mi cambi semplicemente il lato, non la gamba, quindi posiziona il cerchietto all'esterno e reggo il cerchietto con la mano destra contro l'esterno del ginocchio destro. Tre respiri, ti sentirei sbilanciato tutto verso il lato destro ma la nostra box reagisce, resta stampata e squadrata bene a terra. inspira e fuori, 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 andiamo a stringere il cerchio ma controllo bene la box. In particolare il lato sinistro lo ancoro al terreno, fuori, 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 inspiro ancora uno, vai, fuori, 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 fuori e voilà. Cambio gamba, non la mano perché ci ritroviamo sulla parte interna del ginocchio sinistro. Sistemati nella box, concediti sempre qualche secondino di aggiustamento, di piazzamento delle ossa, respira. Powerhouse, fuori l'aria stringo, lavorano sia la gamba sia il braccio, entrambe cercano di lavorare per stringere il cerchietto. Ancora, fuori, 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 inspiro, ultimo, fuori, 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 voilà. Cambio mano e lato, quindi sull'esterno della gamba, metto il cerchio, attenzione al lato destro del corpo, ancora qua il terreno. respira e fuori 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 e in ancora fuori 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 e in faccio l'ultimo fuori 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 e stop molto bene Ora posizioniamo il cerchietto contro il lato destro anteriore del ginocchio, gamba posizionata a tavolino, non troppo alto il piede, lascialo pure anche poco più basso della linea del ginocchio e vai a fissare il cerchio con il gomito dello stesso lato, quindi abbiamo braccio destro, gamba destra. Più o meno il cerchietto sta sull'orizzontale, quindi non stare troppo puntato sul ginocchio per rendere agevole e stabile, anche se proprio stabile il tutto non è. Allora, da qui l'altro braccio sta a terra, sistemati nella colonna e nella box, inspira e fuori 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 stringo forte 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 forte. e piano lascio e ancora fuori l'aria due, inspiro fuori l'aria tre, fuori 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 fuori, inspiro arriviamo a cinque ripetizioni, fuori l'aria quattro, sentiamo lavorare bene la parte posteriore del nostro braccio. Ancora uno, fuori 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 fuori, fantastico, attenzione non cambiamo lato, appoggio a terra la gamba e vado a mettere il cerchietto proprio sull'incavo dell'anca destra con il braccio disteso, ok? Inspira e fuori l'aria, premi il cerchio contro l'anca destra, fuori 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 fuori, pensa di chiudere proprio fuori 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 fu Fantastico, ora avvicina per comodità un po' i piedi di terra e mi accavalli la gamba sinistra sulla destra, inspiri quando butti fuori l'aria, spingi il braccio fissa l'estremità e con il sollevamento del bacino vado a stendere ulteriormente il cerchietto. Qui pensa che questo punto mano cerchietto sia un punto fisso nello spazio, quindi salendo faccio lavorare bene il gluteo destro per stringere il cerchietto, ancora usami bene la powerhouse, fuori l'aria, ecco qui voglio che pensi oltre all'avvicinamento degli ischi voglio che pensi tanto anche al coccige che va verso il pube, fuori l'aria, due, forte, forte, tre, scusami. Inspiro, scendo, fuori l'aria, quattro, inspiro, scendo, fuori l'aria, cinque, rimango su, cinque volte, chiudo il cerchio con il braccio, bacino fermo, uno, due, tre, quattro, cinque, al contrario, chiudo il cerchio con il bacino che si solleva dal gluteo, uno, due, tre, quattro, cinque, braccio, uno, due, tre, quattro, cinque, bacino, uno, due, tre, quattro, cinque, braccio, uno, due, tre, quattro, cinque, bacino, uno, due, tre, quattro, resta. Cambia la posa del cerchietto Lo tieni con tutte e due le mani Sopra il petto Stendimi l'altra gamba E spingo in alto il bacino Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove E dieci Molto bene Cerchietto davanti al petto Prima di fare l'altro lato Fammi un bel respiro E butta fuori l'aria Stritola bene il cerchio Forte, 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 forte Più che puoi, più che puoi Gomiti non incollati al corpo Ma molto vicino E spalle ben abbassate E ancora Fuori, 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 fuori E ultimo Usami bene la powerhouse Quando lavoriamo Soprattutto con il cerchietto in mano Lavora bene Sia con la powerhouse inferiore Che ti aiuta a stabilizzare la schiena Sia con la powerhouse superiore Che ti aiuta a stabilizzare le scapole Cosa intendo per powerhouse superiore? L'avvicinamento delle scapole tra di loro E un po' la spinta verso il basso Immagina che sia dalla chiusura delle scapole delle spalle Che vai a strizzare il cerchio Tre volte con le braccia distese sopra l'area del petto Inspira Fuori l'aria Powerhouse che lavorano Stringo forte Mi allungo nella colonna Senti anche la differenza fra il lato destro del corpo Che è stato allenato in maniera simmetrica Tranquillo che poi facciamo anche il sinistro Fuori l'aria Due Forte Forte Ultimo Allungati Powerhouse Strizza forte 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 E voilà Cambio Partiamo con la gamba a sinistra Tavolino a posizione al cerchietto Contro il ginocchio E lo reggi con il gomito opposto Valuta che il cerchietto sia più o meno Preparato diciamo Su un piano orizzontale Il palmo della mano In questo caso la sinistra che regge il cerchietto Guarda il pavimento Stabilizza Datti qualche secondo per stabilizzare la box Regolare Respira E fuori l'aria Stringo forte 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 E piano apro Vai Fuori l'aria Due E inspira Ancora Powerhouse che lavorano Tre Spalle giù Ancora due ripetizioni Svuoto i polmoni Cercando di rimanere con la gabbia aperta Fuori 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 Vai lungo fuori 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 simmetricamente, respira e fuori 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 cioè lavora, ovvio che il lavoro ragazzi è asimmetrico ma il nostro impegno proprio per sviluppare gli stabilizzatori è quello di tenere le ossa in una posizione il più possibile simmetrica 5 ripetizioni, siamo alla seconda fuori 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 stai nel corpo bilancia bene la box mantieni il neutro attivati bene nelle powerhouse fuori l'aria, 3 forte ancora 2 quando senti che proprio il cerchietto pensi che non si possa chiudere di più provaci, provaci, provaci provaci ancora 1 chiudo l'angolo busto braccio sinistro chiudo, 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 chiudo tutto il corpo attivo in profondità e voilà, muy bien a cavallo la gamba destra sulla sinistra tengo come punto fisso il contatto mano cerchietto e 5 volte ci solleviamo con il bacino qui ricordati di lavorare bene non solo avvicinando gli ischi ma anche il coccige al pube soprattutto proprio per quello che riguarda la linea del pavimento pelvico non tanto per procurare una retroversione pronunciata da qui fado su fuori 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 e scendo fuori 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 e scendo fuori 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 E scendo. Ancora. Lenta anche la discesa. Fuori, 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 forte, forte. Ancora uno. Voilà. Vai con il corcige verso il pubel. Fantastico. Adesso stringiamo mantenendo fermo il bacino cinque volte il cerchio con il braccio. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Fermo con il bacino. Braccio. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Braccio. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Gluteo. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Voilà. Cerchietto sopra l'area del petto. Gamba destra distesa. Dieci spinte in alto. Uno. Dal gluteo. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. E dieci. Cerchietto davanti all'area del petto. Inspira. Fuori l'aria. Powerhouse. Stritolo il cerchietto. Gomiti. Non incollati al corpo ma vicini. Allungati nella colonna. Allungati. Allungati e mantieni il neutro. Ancora. Ancora uno. Fantastico. Braccia distese sopra l'area del petto. Tre. Ripetizioni. Inspiro. Powerhouse. Avvicina bene le scapole. Arrivo a stringere. Anche se di poco. Cerco di stringere forte e forte il cerchietto. E piano lo apro. Fuori l'aria. Due. Inspiro. Fuori l'aria. Tre. Molto bene. E stop. Prepara la gamba. Il cerchietto girato. Prendi il piede destro. Estendimi la gamba destra sulla verticale. La sinistra la lasciamo a terra giù. Con il piede a martello di sotto. Della gamba di sotto. Ok. Non a martello. Martello. Quella della gamba di sotto. Devi creare chiaramente la giusta opposizione per reggere bene la gamba. Molto bene. Ora da qui. Cerca sempre di tirare un po'. Vedi. Tiro in giù con le mani. In modo da avere il cerchietto che è più un ovale. E vado a massaggiare un pochino l'anca. Disegnando dei piccoli cerchi. Sono un po' guidati. Un po' l'avampiede preme come per allungare la gamba. Un po' le mani tirano in giù. Dall'altra parte. Molto bene. Fletto il ginocchio. Mi aiuto a salire. Posiziono verticalmente il cerchietto e la gamba destra sopra. E quindi mi sdraio. Braccia lungo i fianchi. Box. Posizione ben ristabilita. Mantieni in extra rotazione la gamba destra. Quindi imprimi dall'anca una rotazione. Motivo per cui il tuo ginocchio e il tuo piede guarderanno leggermente in fuori. Metti le mani sulle crestiliache affinché non ci sia una rotazione del bacino. Respira. Fuori l'aria. Powerhouse. Stringi bene il cerchietto a terra. Stringi forte. 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 E piano. Inspiro su. Fuori l'aria. Stringo forte. 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 Inspiro. Fuori l'aria. Stringo forte. 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 Inspiro. Ancora uno. Ancora uno. Fuori l'aria. Stringo forte. Rimani qua. Dieci secondi. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Lascio un attimo. Parto con la schiena in imprint. Sollevo il bacino. Sento bene la linea coccige verso il pube. Ventre approfondito. Mollettine qui nell'addome. La gamba resta in extra rotazione. Inspira. Non far cedere in fuori l'altro ginocchio. Fuori l'aria. Glutei contratti per bene. Lascia alte le anche. La stessa altezza. Vai. Stringi bene il cerchio. E piano su. Fuori l'aria. Due. Inspiro. Su. Fuori l'aria. Tre. Forte. 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 Inspiro. Fuori l'aria. Quattro. Scavami bene l'addome. Fanne un altro cinque. Rimani dieci secondi. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Fai dieci volte bounce. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. E giù. Molto bene. Recupero il cerchietto. Sciolgo un attimino le gambe. Particolare la destra. E quindi vado a prendere la gamba sinistra. Due mani in un'impugnatura del cerchio. Avampiede nell'impugnatura opposta. Stendimi la gamba destra che ha lavorato. Mantieni i piedi flex. Crea la giusta posizione con l'avampiede. Spingo in alto. Diciamo non da fare piede pointe ma da creare un po' di resistenza. Con le mani tiro in giù. Libera bene l'anca. E quindi guida con le mani mantenendo questo senso di resistenza. dei piccoli cerchiolini in un senso e nell'altro. Molto bene. Quindi fletto il ginocchio. Mi sollevo con la testa e con le spalle. Raggiungo la posizione seduta per piazzare il cerchietto verticalmente davanti al gluteo sinistro. torno giù su pino. Mi metto a posto con la box, con la schiena e con l'extra rotazione dell'anca. Mani sulle creste iliache che vanno a verificare la posizione corretta del bacino. Inspira. Fuori l'aria. Powerhouse. Stritola il cerchio. Con l'extra rotazione. Vai, 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 vai. Forte, 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 forte. Piano, apro, su. Ancora, fuori l'aria. Giù, forte, forte. Senti il centro, senti la colonna lunga, bacino pari, extra rotazione. Piano, apro. Fuori l'aria. Quattro. Fuori, fuori, fuori. Senti. Passa mentalmente nel corpo in tutti i dettagli. Ancora uno. Fuori, 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 fuori. Rimango. Dieci secondi. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci. Preparati nella schiena in imprint, quindi linea del coccige verso il pube. Ischi comunque vicini. Ti sollevi. Lascia le braccia ai lati del corpo. Mantieni il bacino sospeso in una buona condizione. Anche l'intera schiena è sotto controllo. Mollettine costato addome. Extra rotazione dell'anca. Respira. Fuori. Mantieni il bacino alto. Stritora il cerchietto. E piano. Apri. Fuori l'aria. Due. Inspiro. Fuori l'aria. Tre. Forte, 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 forte. E fuori l'aria. Quattro. Inspiro. Ancora uno. Fuori l'aria. Cinque. Rimango. Rimango dieci secondi sospeso. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci volte bounce. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci e giù. Molto bene. Recupero il cerchietto. Scuoto un attimino le gambe. Prepara il cerchietto sopra la linea dell'addome. Portami le ginocchia al petto. Inspirando. Mi stendi. Hai presente double leg stretch? La versione un po' più difficile. Faccio sfiorare le dita dei piedi al suolo. Stendo le gambe a pochi centimetri da terra. Ti sollevi con la testa e con le spalle. Posizioni il cerchio orizzontale sopra l'area del pube. E stringi le cosce. Stringi forte il cerchietto. E ritorno. Ok? Quando ritorno non appoggio. Porto le ginocchia il più possibile verso il petto senza staccare il sacro. Colonna lunga. Ok? Molto bene. Allora. Inspira prima. E ritorno. Metti a posto la postura. Spalle. Ventre approfondito. Respira. E un lungo fuori l'aria. Vai. Scava. 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 Stringi. E ritorno. Piccola pausa per sistemarsi tutto. Quindi sacro appoggiato. Centro schiena. Nuca. Ventre approfondito. Ginocchia bene al petto. Un respiro profondo. E ancora più lungo fuori l'aria. Vai. E voilà. Riposino. Fatto. Single leg stretch. Allora. Un solo ginocchio sotto il cerchietto verso il petto. Odome ben scavato. Scavo. 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 E cambio. Scavo. 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 E cambio. Spiro. Inspira nel cambio. Se non ti dà noia alla schiena. Fammi lo stesso passaggio. Vedi della gamba che sfiora a terra. Eh? A pochi centimetri rimane. Ma tira bene l'altro ginocchio al petto. Spiro. 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 Molto bene. Riposo. Appoggi un attimo il cerchietto sulle tibie. Tira un attimo le ginocchia al petto. Siamo pronti per crisscross. Allora. Verticalizza il cerchietto girandoti con la parte alta del corpo. Attenzione non è rullo buttandomi a destra e a sinistra. Salgo. Metti a posto le gambe. Metti a posto il cerchietto verticale a fianco al lato del corpo. E qui stringo. 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 Dall'altra parte. Uno. Due. Tre. Uno. Due. Tre. Ultimo di qua. Ultimo di là. E stop. Tengo il cerchietto fra le caviglie. Le mani sono a supporto del bacino e della schiena. Inspira. E fuori l'aria. Scendi e strizzo il cerchio tre volte. Uno. Due. Tre. Addome scavato. Mi fermo. Respiro. E fuori l'aria risali. Scava uno. Scava due. Scava tre. E scendi fino ai quarantacinque, non più giù. Schiena appoggiata. E ginocchia al petto. Recupero il cerchietto e mi giro pancia in giù. Io mi diagonalizzo per posizionare l'intero corpo prono. Cerchietto davanti alla zona della testa. Mani sovrapposte su una impugnatura. Posizione neutra da prona. Inspirando. Mi elero di più con la testa e con le spalle. Senza perdere la posizione neutra. Quindi appoggio del pube e delle costole. Sento scendere bene le scapole. e ritorno giù. Ancora. Senti bene il lavoro delle scapole. La colonna che si allunga. Stretti bene i glutei. Porta il coccigen sotto. La colonna si allunga anche se si estende. E ancora. Su, 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 su. Piano scendo. Su, 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 su. Piano scendo. Ultimo. E scendo. Molto bene. Ci mettiamo sul fianco. Entriamo con entrambe le gambe all'interno del cerchietto. posizionato all'esterno delle caviglie. Posizione neutra sul fianco. Antepongo la gamba di sotto ma veramente di poco. Bene la posizione neutra di lato. Extra ruota un po' la gamba di sopra. Quindi la punta del piede non guarda esattamente avanti ma un po' in alto perché il movimento è generato dall'anca. E quindi apro il cerchio individuando bene il movimento della diagonale. Quindi il cerchietto, cioè la gamba di sopra spinge sia in alto che indietro. Uno. Però non devo perdere la verticale qui delle anche. Due. Tre. Quattro. Cinque. Vai con il coccigen sotto. Stringi bene i glutei. Ovviamente ti lavorerà di più quello del cerchietto. E forza ancora bene la posizione. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Ancora. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Ancora. Ossigenati bene. Uno. Due. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Sette. Nove. Ultimi. Forza. Dieci. Nove. Otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. Uno. Uh! Posiziona la gamba di sopra. Sopra. al cerchio. Inspira. Allunga bene la gamba. Fuori l'aria. Stringo. 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 Piano. Apro. E ancora. Fuori l'aria. Scava. Allungati. Giro vita di sostegno. Forte. 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 E ancora. Lungo e fuori l'aria. Spremi fuori tutta l'aria. Ancora uno. Vai. Fuori, 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 fuori. E... Muy bien. Recupero il cerchio con grazie e decoro. E vado dall'altra parte. Quindi, staremo sul fianco sinistro, ma prima mi agevolo nella preparazione. Inserendo i piedi. Posizione. Guido bene la presa del cerchio. Posizione neutra. Quindi verifico il buchino qua sotto. Il neck pull del collo. La gamba di sopra. Intanto metto la bolla verticalmente qua. Devo essere verticale anca su anca. Costolette dentro, tenuta sempre della linea pube esterno. Cochige in sotto. Glutei contratti. Il ginocchio e la punta del piede guardano appena appena in su. Individuo la diagonale. Glutei contratti. E vado con i bounce dal gluteo destro. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Controlla l'allineamento del bacino. La colonna che allunga. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Imprimi sempre l'extra rotazione. Uno. Due. Metti a posto il bacino. Tre. Quattro. Cinque. Forza dal gluteo. Sei. Sette. Otto. Non manca molto. Dai, allungati nella schiena. Uno. Due. Giro vita. Quattro. Cinque. Glutei contratti. Cochigen sotto. Forza gli ultimi ragazzi. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. E dieci. Sfilo. Metto sopra. Cinque ripetizioni. Allungati bene con la gamba. Ripristina bene la posizione neutra. Un respirone. E quindi fuori l'aria. Power house. Stabilizza con la power house. E ancora. Qui la gamba guarda avanti. Fuori, 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 fuori. Allunga. Allunga e stringi. Allunga e stringi. Stabilizza un po' anche con la gamba di sotto il cerchio. Solo due. Fuori, 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 fuori. E voilà. Recupero il cerchietto. Ci solleviamo dalla posizione e ci mettiamo in quadrupedia. Dalla quadrupedia voglio che posizioni il cerchietto davanti all'area destra del corpo. Ci tieni la mano sopra. Il gomito sta più o meno sotto la linea della spalla. Inspira. Fuori l'aria. Cerca di stringere bene il cerchietto contro il terreno senza modificare l'effetto a tavola della tua box, della quadrupedia. Ancora. Fuori, 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 fuori. Non far andare il gomito in fuori ma esattamente sotto alla spalla. Fuori, 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 fuori. Lungo il collo. Lunga la schiena. Ancora uno. E dall'altra parte. Imposiziono. Esercizio anche di forte stimolazione proprio eccettiva perché devi mantenere l'effetto tavola della schiena oltre che rinforzare il braccio. In questo caso il sinistro, tavola della box, proprio esattamente come una tavola. Inspira. Fuori l'aria. Stringo il cerchio contro il terreno. Fuori, 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 fuori. Esplora la posizione dove riesci a avere chiaramente lo spazio. Per eseguire non è un movimento ampio, lo senti anche tu, ma è efficace e di controllo posturale. Fuori l'aria. Uso bene la powerhouse. Giro vita. Allungamento della colonna. Tutto ritorna. Forza. Fuori, 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 fuori. Dai che ne manca uno. Fuori, 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 fuori. E voilà. Muy bien. Teniamo adesso il cerchietto in mano. Ci solleviamo. È presente il rabarbaro zucca. Mi staglia un po' la fronte e la testa, ma non importa. Nel senso dell'esercizio viene visto e percepito. Cerchietto davanti al petto. Fuori l'aria. Inclino il corpo all'indietro. Mantenendo bene il coccigen sotto, glutei ben contratti. Non ci deve essere l'effetto mi siedo sui talloni, ma allineo la linea ginocchio-anca-spalla rimane compatta nella discesa. Fuori l'aria. Dietro. Mi allungo nella schiena. Solo moderatamente il cerchio viene stretto per stabilizzare bene anche le scapole. E ritorno. Ancora uno. E ritorno. Posiziono il cerchietto dietro alla linea del corpo. Prendo le impugnature in questo modo. Vedi sulla verticale. Inspira. Stringo poi quel che riesco il cerchietto. Apro bene il petto. E lascio. Ancora. Ultimi due. Molto bene. Ultimo, ultimo. Molto bene, ragazzi. Ora, posizioniamo a terra il cerchietto e ci mettiamo noi, con i talloni, nell'incavo delle due impugnature. E continua a fare con i piedi, intra ruoto e stringo il cerchio. Intra ruoto. Se tu guardi il tuo cerchietto deve essere proprio un ovale. A questo punto mi allineo sulla verticale con il corpo. Con le mani. Io sposto il computer. Tac. Abbiamo. Quindi. Abbiamo fatto, ragazzi, che... Da questa posizione proprio... E' muovendo i piedi in intra e un po' in extra rotazione che ovalizzo il mio ring. E quindi raggiungo la posizione eretta con il corpo. Stringo moderatamente il mio cerchietto. Sento che è sempre attivo perché il cerchietto ti spingerà in fuori le caviglie, le ginocchia, ma non le nostre. Allungati bene verso l'alto. Facciamo insieme tre respiri profondi. Intanto sento bene l'appoggio dei piedi. Il metatarso, l'esterno piede, il centro dei talloni. Costante la tenuta dell'interno delle cosce. Senti l'energia che proprio dal cerchietto risale e percorre l'intera postura che verrà allungata in alto. Braccia, spalle aperte. Stringo bene il cerchio. Allungati. Senti la linea cocci genuca che allunga. Molto bene. Ora lascio, entro per comodità. Et voilà. La nostra postura è stata rinfrescata. Che ne dici? Molto bene. Io ti ringrazio per l'attenzione e per la pratica. Ti invito a avere un abbondante bicchiere d'acqua. Ti auguro una bellissima giornata. Grazie. Grazie.